Il ragazzo ha già partecipato per cinque anni, questo è il quinto anno del San Remino e ha vinto l'anno scorso con la canzone Stardust di Mika e adesso ci delizierà con la canzone di Bruno Mars, un applauso! Allora Stefano dimmi perché hai scelto questa canzone e chi vorresti dedicarla? L'ho scelta per il ritmo e vorrei dedicarla a tutti i miei conoscenti Perfetto, allora sentitevi i destinatari di questa canzone Perfetto! 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 E Stefano, ci hai fatto emozionare! Vuoi salutare qualcuno o va bene così? Salutare tutti, cosa devo dire? Ah ok, grande, va bene! Adesso ti invitiamo a scendere dal palco e ti salutiamo. E è il turno, scendi pure dal palco, è il turno di Noemi Analia che canterà sei nel